Ora vi facciamo vedere il nostro servizio di apertura, quello relativo alla festa della Polizia. Tante iniziative, come detto, anche a Pisa, nella mattinata di oggi, che peraltro vi abbiamo fatto seguire con una diretta sulla nostra emittente. Ma rivediamo i momenti principali. Il momento celebrativo più importante dell'anno per la Polizia di Stato è un momento a cui va dedicato grande attenzione. È un momento di sintesi, un momento di riflessione, anche un momento di ricordi, di passaggi anche emozionali che nel corso dell'anno abbiamo vissuto con la comunità, con la città. E questo abbiamo cercato di realizzare oggi, al di là dei numeri, al di là del lavoro, di tutti i giorni e dei sacrifici che tutti i giorni si portano avanti. Al Museo delle Navi Antiche, agli arsenali medici, le celebrazioni del 171esimo anniversario della Fondazione della Polizia di Stato. Il momento più toccante sicuramente è quello in cui è stato premiato il 36enne, che lo scorso 9 gennaio tentò di salvare la vita al dottor Piero Orsini, l'anziano che fu aggredito in via Bovio e che morì il giorno successivo a causa delle ferite riportate. Esempio di coraggio ed altruismo, cittadino modello e prezioso alleato nella difesa dei nostri valori fondamentali, di legalità e di umana fraternità. La targa verrà consegnata dalla sorella e dal fratello del signor Piero Orsini, deciduto a seguito di aggressione il 9 gennaio 2023. Una cerimonia alla quale hanno partecipato tutte le autorità cittadine, nel corso della quale il questore di Pisa, Gaetano Bollacorso, ha fatto un'analisi di quello che è accaduto in città nell'ultimo anno. Tutto sommato il bilancio anche quest'anno è assolutamente positivo, sia dal punto di vista della sicurezza per i risultati ottenuti, sia dal punto di vista dell'andamento dei reati che non suscita elevazioni significative, anzi nella gran parte dei casi si registrano pressioni, sia dal punto di vista dell'ordine pubblico. Abbiamo affrontato situazioni anche molto complesse dal punto di vista dell'ordine pubblico, per fortuna non ci sono stati incidenti significativi e questo è evidentemente un risultato molto importante per noi.